Scusa, rachitica, rachitica. Dietro in fila, Frodio. Jumping jack. E poi allungo, allungo. Vai con l'allungo, allungo, falli pure piano che sei gracile. Sì, ma entrambe le mani poi si devono allungare. Eccoli, quello è uno. Poi stai facendo fare tardi la Ferrazzi che lei ci tiene a stare soprafrosi e lei ci continua. Dicono tutti così quelli che non hanno il fisico. Sei vero o ma ti sei? Non sei vero, ma ti sei vero. Non hai giusto con te, eh? Se tu hai venuto a allenarti via al fisico, cioè io non so. Due volte sono sempre. Prima di 15 giorni qui in genere. Aspettate, non sovrapponete gli esercizi dei compagni, sennò si fa casino e per questo devi stare dietro. 5-6. 5-6. 5-6. Grazie. 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 questo non posso accettare grazie 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 bene questo pettone a terra e poi concludi grazie 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 Grazie. 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 È l'ultimo, è l'ultimo. Poi non c'è neanche più il cardio. Cosa vuoi di più? Tieni bene l'addome e stai bene in verticale. Non tenere la punta del piede. Sempre la pianta. Teni la posizione per più di un secondo senza rannicchiare le gambe. Grazie. 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 Grazie.